E' un calcio al pallone e quasi un'incornata alla vita. E allora, in tempo reale, dallo scrofano di Palazzolo, purtroppo è un incidente serio, ma la persona è ancora viva, una signora anziana di Gruscemi, azienda agricola familiare, ha avuto un incidente con un animale, un'incornata, quindi parliamo di bovini, era cosciente, la gestualità era cosciente, il marito dichiarava comunque in modo molto chiaro che i soccorsi non sono arrivati celeri, ma dobbiamo anche dire che non sappiamo nemmeno la realtà dei fatti, quindi ci atteniamo a quello che in questo momento stiamo verificando. L'elicottero del pronto soccorso è in fase di rullata, tra qualche secondo noi vedremo questo mezzo che in breve porterà la persona che vediamo a Catania e se in questo momento le stiamo raccontando il dramma ci auguriamo che sempre dal cielo ci possa arrivare l'informazione positiva. Abbiamo dovuto sospendere il torneo dei Monti Blei per oltre 20 minuti perché improvvisamente ci siamo visti l'elicottero sulla nostra testa e lo scrofani comunque adibito appunto per l'incontro tra i mezzi di soccorso di terra e appunto quelli d'aria. E' tempo reale anche questo. Si chiude il portello Gli ultimi momenti Procedure standard Fanno un lavoro incredibile E oggi noi lo raccontiamo così In tempo reale Fuori da quello che è L'evento sportivo ma allo stesso tempo di conseguenza Gli ultimi controlli Inizia la fase Alzano i numeri di giri E noi auguriamo alla persona che possa ritornare a casa Si alza la speranza in volo Dallo scrofani di Palazzolo Grazie 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 Grazie